Ah stava giusto! Oh cazzo! Che la faccia a malattima è una donna! E viene da! Bello ha fatto una spazio in meganuto! Stava salendo! 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 E' fatta male! Seguiamo Loca in posizione d'attacco! Il controviede! Dicci due parole su questo match! E' pericoloso! Andiamo in diretta con la papera! Non lo so! Non lo so! E' un po' di scala! 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 La la destra! Oh! Ma lo fai a cagnare! Di che squadra Giovan? E' un po' di scala! E' un po' di scala! E' un po' di scala! Ma io ho fatto una cazzavonciale! E' un po' di sbaglio! E' state sopra? Ah perchè l'altra è scesa! Passo campo! E' sul punteggio di uno a uno per Loca! E' il punto beccato! E questo becca è il peste di Roma! ok scappano tutti loca scappano tutti aspetta proprio che è per il puglio e come è? è la posta un coppa a lui il rosso! Ah, per Loca! C'è tra l'altro, il dito cancetto! Ah, vabbè, vabbè, poi c'è la cancetta! Il punteggio di 2-2 per Loca! Se non fiamo i nostri collegati... A Loca! A Loca! Ma vuoi finire il video? Ma questo è lelo contro Loca! Ma questo è l'integrale! Ero loca! Ero loca! Ero loca! Ero loca! Ero loca! Ero loca! Ero loco entro loca! Ero loca! Ero loca! No, no, non la via! Ero loca! Ero loca! Oh no, di fa! Oh, se fa il dolce! Si dice la capa 2! Ero, piccolo! Ora, è questo del Langone... Ero loca! Oh, ho, 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 ho! Oh, ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Va bene, non lo so, non lo so! Non lo faccio, non lo faccio! Ho, 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 ho! Ho la cattura dell'oro! Ma io vabbè lo prendo in tutto il giugno, non lo faccio, non lo faccio! È la sanzona e la sanzona! Oh, ho, ho, ho! Vabbè, qui, qui! Vabbè, qui, qui! L'acqu üç, la coperda! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ehi, la cattura dell'orga! bello, bello, bello un saluto a te ragazzi e interroggiamo qui il nostro collegamento